Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Sylvaine Elaine è ricoperto di tatuaggi dalla testa ai piedi, tanto da valergli il titolo di essere l'uomo più tatuato sul suolo francese. È conosciuto da tutti con lo pseudonimo di Freaky Hoodie, e a causa di questa sua particolare condizione rischia seriamente di trovarsi presto senza un lavoro. Attualmente Sylvaine è un'insegnante della scuola materna ed elementare, un lavoro che ama profondamente e al quale si dedica con la massima dedizione. Tuttavia, di recente i genitori di un suo piccolo alunno hanno scritto una lettera che sta mettendo seriamente a rischio il suo posto di lavoro. L'ipotesi del licenziamento si sta facendo sempre più concreta, ecco perché. In sostanza, nella lettera I sostiene come il bimbo soffra spesso di incubi notturni a causa dell'aspetto del suo stravagante insegnante. Tutti quei tatuaggi non farebbero dormire sonni tranquilli al piccolo. Si tratta di affermazioni molto forti che hanno spinto i dirigenti scolastici a ricorrere alla sospensione dell'insegnante. Una misura che è stata disposta per ben due mesi, durante i quali Fikihori è stato costretto ad allontanarsi dall'aula scolastica. Ma non è tutto, perché alla fine si è deciso di aggravare irrimediabilmente la sua posizione con una decisione ancora più drastica. Il vero e proprio divieto di insegnare ai bambini dai 3 ai 5 anni. Una brutta batosta per Silvaine, che ritiene questa decisione assolutamente ingiusta e addirittura discriminatoria.